di nuovo buonasera benvenute questa sera parliamo appunto di bambini se volete se vi fa piacere magari potete scrivere nella chat se avete bambini se lavorate con i bambini quanti anni hanno adesso di qualcuno lo so però anche no per così per confrontarci un pochettino tra di noi in modo che così magari vediamo anche quale può essere la parte più interessante per le persone che sono presenti anche se magari poi vedrò di toccare un po tutte le età per coinvolgere anche chi magari guarda in un secondo momento sono così mi fa particolarmente piacere parlare di questa cosa questa sera perché questa mattina ho vissuto una cosa a scuola che mi ha lasciato un po così scombustolata tutto il giorno grazie chantal ed è che una mia collega ha dovuto interrompere il suo impegno quindi la sto sostituendo in questo momento a scuola e in particolare questa mattina in una nelle ore di attività manuali e ovviamente sono delle ore in cui i bambini ragazzi si muovono un po più liberamente no quindi non non è che stanno sempre riseduti sul banco eccetera per cui c'è un pochettino più di movimento insomma no però io sono abituata a questa cosa tra l'altro grazie Rubina tra l'altro è una classe che conosco perché adesso io quest'anno avevo preso un anno di permesso da scuola però sono uscito dalla porta e sono rientrata dalla finestra però insomma li ho avuti da quando facevano la terza elementare adesso fanno la settima che sarebbe la seconda media credo e quindi come dire no abbiamo un rapporto per cui io mi sento molto tranquilla se uno di loro si muove un attimo così e quindi ecco cosa succede che per ragioni insomma di necessità di alcuni bambini avevo in classe anche due assistenti o insegnanti di sostegno qui in Norvegia si chiamano assistenti che forse conoscono un po' meno i bambini o forse sono meno abituata alla scuola straneriana io non lo so fatto sta che loro non non riuscivano a tollerare questo fatto che i bambini si muovessero ed erano anche un po' in difficoltà perché non sapevano che cosa i bambini dovevano fare no che era di cucire un grembiule stanno cuocendo un grembiule è un compito che dura tutto l'anno che è un grembiule che poi useranno nelle ore di cucina quindi così e come dire il fatto di non essere loro preparate lo sto dicendo come osservatrice non come critica per carità però metteva in difficoltà il fatto di avere le cose sotto controllo e quindi hanno reagito in un modo un po' secondo me adesso non voglio dire violento però un po' forte rispetto a questo muoversi dei bambini e li ho visti un po' spegnersi e così e questa cosa mi ha lasciato male perché so che ha lasciato male anche loro io ho cercato di bilanciare poi dall'altra parte però in realtà ormai il danno era stato fatto e quindi ecco credo molto importante parlare di questo aspetto molto spesso parliamo di oli essenziali ai bambini e quindi parliamo di cose super importanti che sono il supporto immunitario che sono così dormire concentrarsi per fare i compiti che sono insomma problemi anche fisici di solito problemi necessità però io sono molto convinta che questo fatto di guardare si può usare il motivo del bambino sia davvero davvero importante è importante che non ci siano rumori poi se volete intervenire potete alzare la mano però se lasciamo i rumori poi è molto difficile nella quando si guata la registrazione e così quindi adesso vi apro la la presentazione dovrebbe essere possibile da qui ok quindi l'importante appunto è proprio capire come funziona questa cosa nei bambini perché è diversa da quello che succede per noi e quindi sapere come muoverci con magari più consapevolenza quindi magari cercate di pensare anche a così a delle cose che sentite che magari state vivendo in questo momento perché poi anche noi non è che siamo così preparati su tutto certe cose succedono e non ce le stavamo aspettando l'età cambiano e così no c'è una mia collega per esempio che ha avuto questa classe da anche loro da quando erano piccolini un'altra classe non quella di cui parlavo prima e lei ha detto e loro sono arrivati alla decima e io sono diventata insegnante della decima no quindi noi diventiamo insegnanti genitori i zii nonni quello che volete di bambini che sono bebè e che poi vanno a scuola e che poi diventano giovani quindi il nostro rapporto cambia no quindi magari una cosa che fino a ieri aveva funzionato oggi magari non funziona più no quindi così pensate magari a che cosa può essere in questo momento e pensate anche a come potete come possiamo prenderci cura di noi come potete prendervi cura di voi in modo da essere il tipo di genitore di adulto che volete essere perché lo sappiamo se la tazza è vuota non c'è niente da condividere con gli altri quindi ecco quando si parla di emozioni è molto importante anche tenere presente le nostre come abbiamo reagito noi prendersi sempre del tempo per questa cosa quindi parleremo molto velocemente di che cosa sono gli oli essenziali faremo l'introduzione di su cosa sono e come funzionano le emozioni dei bambini e come possiamo usare gli oli con i piccoli poi naturalmente se ci sono delle domande troviamo il tempo di rispondere anche a quelle allora gli oli essenziali lo diciamo sempre sono dei composti aromatici che vengono estratti dalle piante e i bambini rispondono molto bene a questo siero vitale della pianta quello che le mantiene vigorose, colorate, profumate, che le difende è esattamente quello che vogliamo che succeda con noi sappiamo che stiamo parlando degli oli di diuterra che quindi sono molto sicuri, sono stati testati tutti quando li compriamo direttamente dalla fonte sappiamo quello che troviamo in ogni boccetta quindi non hanno effetti collaterali nel momento in cui non li usiamo nel modo giusto e qui vedete, non so se è grande abbastanza però una tabella su quello che è la dose generale per gli adulti e per i bambini vedete che nell'uso aromatico più o meno siamo liberi l'uso interno è molto ridotto per i bambini nel giro delle 24 ore l'uso orale cioè proprio per bocca interno vuol dire che tipo in una capsula invece orale è proprio quello che può essere preso in bocca e questo per i bambini non c'è, non è proprio presente e qui adesso qui non è specificata l'età e invece per l'uso utopico anche questo è assolutamente possibile però vedete quanto è minore la dose questa è una diluizione, adesso è in inglese però sono anni e gocce quindi ecco si dovrebbe riuscire a vedere ed è, vedete, fino a un anno proprio pochissimo su 10 millilitri massimo 6 gocce e poi andando ad aumentare 18 anni ovviamente sono adulti ma anche da 12 a 17 dipende chiaramente sempre molto anche dalla costituzione del bambino questa sera mi concentrerò sulle miscele proprio per i bambini quindi quelle sono già pronte e non ci dobbiamo preoccupare di niente ecco come dicevo è importante il dosaggio i bambini reagiscono bene anche a dosi molto molto ridotte e li possiamo diffondere, li possiamo diluire e applicare topicamente ricordiamo sempre che sono per i bambini ma non per i bambini da usare da soli e quindi è bene che loro specialmente quando sono un po' più grandini che li sappiano usare però magari noi siamo lì e lo facciamo insieme a loro e questa è una premessa così doverosa detto questo abbiamo detto che gli oli aiutano il corpo, il cuore e la mente mi fa piacere così sottolinearlo perché le miscele dei bambini sono proprio state pensate con l'idea di aiutare il corpo, il cuore e la mente adesso me ne manca una qui che ho usato questi giorni, lo so, vediamo ok allora una cosa che è molto importante sto cercando di spostare questo in modo che non mi copra molto importante per capire come ci dobbiamo muovere sono due sono questi due primi punti anche gli altri ma molte cose per i bambini succedono per la prima volta e molte emozioni loro non le hanno sperimentate prima e quindi si trovano davanti a una cosa che non conoscono e quindi quello che non conosciamo fa un po' paura di solito no? e quindi è qualche cosa a cui si reagisce in un modo più forte l'altra cosa anche questa è molto importante da ricordare è che i bambini a differenza nostra che pensiamo molto spesso al passato al futuro che ci dobbiamo proprio concentrare per vivere nel presente loro no loro vivono lì quindi quello che succede adesso è quello che conta quello che è successo ieri ok è successo però non è importante in questo momento quello che succederà domani è come mi sento adesso che può sicuramente avere delle repercussioni però in realtà questa è anche una delle ragioni per cui se gli chiediamo cosa hai fatto oggi a scuola loro delle volte non pensano questo riguarda anche gli adolescenti spesso non pensano nemmeno a quello che vogliono fare stasera loro è importante quello che stanno vivendo in quel preciso momento che quindi è fortissimo e con questo dobbiamo farci i conti perché non possiamo pretendere che loro ascoltino un'altra cosa o che reagiscono o che no magari che siano ragionevoli perché in quel momento non riescono ad esserlo le emozioni sono qualcosa che per loro è un bisogno proprio profondo in quel momento e quindi vanno sicuramente ascoltate però appunto tenendo presente quello che succede in quel momento lì per cui se magari noi diciamo di no ha una cosa che per noi è piccola e per loro invece è una cosa che li fa magari piangere a dirotto così è perché in quel momento loro non vedono il quadro generale le conseguenze loro vedono solo magari il no di quel momento e quindi reagiscono così quindi anche i capricci per dire non è una cosa irrazionale è semplicemente che per loro in quel momento non esiste altro e magari non hanno e passiamo al terzo punto le parole per esprimere come si sentono e quindi piangono o urlano o si arrabbiano perché non capiscono non lo sanno spiegare sentono solo un disagio in quel momento lì e allora c'è il pianto c'è bisogno di piangere per loro sì quindi il nostro compito lì è aiutarli a capire che cosa sta succedendo come lo vediamo un'altra cosa che succede è che noi come adulti abbiamo diverse dimensioni della nostra personalità e la razionalità è di solito molto molto presente in loro no loro capiscono quello che succede attraverso il loro corpo quindi diventa molto importante per noi spiegare le emozioni attraverso quello che succede nel corpo questo ne sto parlando questi giorni anche su altri canali è importante anche per noi in realtà capire la radice delle emozioni e le manifestazioni davvero di quello che sentiamo nel corpo quindi il mal di pancia o il mal di testa o il respiro che diventa affannoso il battito del cuore che cambia questo è qualcosa che loro sentono e che gli dà disagio che però non capiscono perché questa cosa sta succedendo quindi proprio il nostro compito è quello di mediare e di trovare delle soluzioni delle storie delle attività che li aiutino a capire che questa cosa è normale quindi noi non possiamo farci trascinare nel loro caos che non è facile lo so però come dire se il bambino urla e noi ci mettiamo a urlare capite che alla luce di questo non serve a niente che lì per lì forse riusciamo a farlo stare zitto però non abbiamo aiutato a fare niente non abbiamo aiutato a capire perché quella cosa sta succedendo non abbiamo dato delle chiavi di interpretazione non abbiamo suggerito un comportamento o una soluzione l'abbiamo solo spaventato e quindi abbiamo lavorato in modo negativo anche sulla sua autostima no ora non voglio con questo che ci condanniamo perché tutti abbiamo urlato delle volte tutti li abbiamo sgridati tutti abbiamo perso la pazienza però in generale se sappiamo cosa sta succedendo mi sembra che si sia fermato di colta di colta conferma che tutto funziona. Adesso sì, ok. Allora andiamo avanti. Cioè, se vedi che hai alzato la mano, se devi dire qualcosa, di pure. Ok. Ecco, no, dicevo, quindi ci vuole molta, molta consapevolezza da parte nostra. Probabilmente è anche un modo diverso, no, di pensare, ora dico diverso rispetto a quello che magari è stato tradizionalmente, non rispetto a quello che fate voi, che probabilmente è giustissimo, insomma. Quindi non sentitevi chiamati in causa, insomma, in questa cosa, soltanto che è quello che spesso vedo succedere. E quindi, così, è importante da sottolineare. Per così aggiungere una piccola prospettiva, Rudolf Steiner dice che la vita si divide in settenni, calcolando che parliamo adesso di bambini, di ragazzi, anche se vogliamo, no? Quindi pensiamo ai primi sette anni, da zero a sette, poi da sette a quattordici, e poi da quattordici a ventuno, e a quel punto siamo decisamente fuori dall'infanzia, no? Nel primo settennio i bambini vivono il mondo attraverso il movimento, quindi le mani e le braccia, e le gambe, i piedi, insomma, quel tipo di movimento lì. Per cui loro esplorano il mondo e si muovono tanto, no? Per cui è il momento in cui parano a camminare, toccano, si arrampicano, no? E questo è importantissimo per loro, quindi l'importanza di essere fuori, no? Di fare una vita attiva proprio, di farli manipolare, no? E perché quello è il loro modo di conoscere il mondo. Quindi non possiamo pretendere che stiano fermi, perché è nel loro DNA, in quel momento, di usare gli strumenti che hanno, che in quel momento sono le braccia, le gambe, i piedi, quindi correre, e ci sono quei bambini in cui questa cosa è super evidente, perché ci sono quelli che davvero, no? Oddio, non hanno pace, ci viene da dire, ma è perché loro sono proprio nel pieno di quello che devono fare, in realtà, in quel momento. Quindi possiamo, no? Aiutarli a farlo nel modo giusto, capire che non dappertutto si può correre, non dappertutto ci si può arrampicare. Io mi ricordo che cos'è stato essere con tre gemelli al supermercato e quelli si arrampicavano sulle scansie. Cioè, quindi capisco assolutamente tutto, però, no? Dall'altra parte mi veniva da sorridere, perciò, e vedi, cioè, loro fanno il loro lavoro in questo momento, no? E poi appunto va tutto un po' mediato, però dobbiamo essere consapevoli di questo. Dai 7 ai 14 anni, sempre seguendo quello che dice Steiner, loro hanno, fino a 7 anni, hanno imparato ad usare il loro corpo e qui arrivano in campo un po' i sentimenti, quella dimensione della personalità che secondo Steiner è l'anima, che fino a questo momento era stata più silenziosa, diciamo, no? Ed è quindi il tronco, per cui la pancia, lo stomaco, il cuore, no? Questi sono gli organi, ma anche il fegato, gli organi che entrano un po' in campo in questo periodo. Quindi, tutta la loro educazione, tutto il loro apprendimento deve avvenire in una chiave che colpisce l'anima. Quindi deve essere sempre qualche cosa di artistico, no? Per cui può e va benissimo che avvenga attraverso la pittura, attraverso la musica, attraverso la manipolazione, quindi proseguendo quello che loro avevano imparato, ma anche un po' affinando questa cosa. Perché è così, l'espressione artistica parla proprio così all'anima, al sentimento. Dopo i 14 anni e lì nel pieno dell'adolescenza, perché succede che loro si ribellano, che vogliono decidere da soli delle robe che magari non hanno senso? Perché è il momento in cui dopo il corpo e dopo l'anima arriva il pensiero e anche lì è una cosa che non si conosce e quindi ci sta che anche il pensiero vada un po' per conto suo delle volte, no? Mettiamoci poi anche tutti gli ormoni nel mezzo e anche il pensiero poveretto fa un po' fatica. Però devono avere la possibilità di fare delle scelte nell'ambito magari che gli viene dato specialmente all'inizio perché poi diventano anche maggiorenne a un certo punto in questo settennio nel terzo settennio però così è importante che loro riescano a mettere in pratica questa cosa. Qual è l'errore che spesso si fa? Pretendere di fare usare il pensiero a mamma di sei anni. o meno quando gli chiediamo di fare delle scelte di giudicare delle cose quando sono troppo piccoli per farlo e anche quello per loro è fonte di smarrimento. Ora io vi parlo della prospettiva steineriana quindi però diciamo che insomma concordo un po' anche con altre teorie così educative teorie teorie dello sviluppo molto spesso c'è questa cosa che si vuole insegnare i bambini a leggere molto presto che si vuole e invece va rispettata un po' questa cosa poi ci sono dei bambini io ero una di quelle che volevo imparare a leggere e che ho imparato senza che nessuno mi dicesse niente ho imparato a quattro anni non perché fossi particolarmente intelligente semplicemente perché avevo un sacco di libri davanti e per qualche ragione a un certo punto io mi sono a guarda che sapevo leggere però questa cosa è stata un po' a discapito di tutto quello che era il bisogno invece di movimento fisico che per me è sempre stato carente e e quindi no come dire sì ok ho imparato a leggere però poi quando sono arrivata a scuola scusate la coda quando sono arrivata a scuola poi mi sono trovata in difficoltà perché mi annoiavo no quindi anche quello va un po' così pensato sì ok questo bambino no riesce a fare tutte queste cose già magari prima degli altri però poi quando va a scuola non ci sono stimoli no quindi forse è importante anche magari fare delle altre cose i miei genitori hanno fatto meglio che potevano come ognuno di noi fa però mi hanno insegnato le cose che piacevano loro loro piaceva leggere quindi ho imparato a leggere e così tutto questo cappello adesso arriviamo anche a parlare degli oli essenziali però secondo me è importante capire da dove si parte maria montessori diceva che c'era qualche cosa che si muoveva lassù però appunto se avete da intervenire se avete mi raccomando dite pure no quindi è importante anche capire il modello educativo che noi abbiamo dove vogliamo arrivare prendere coscienza di come noi stiamo vivendo e lo possiamo fare in mille modi possiamo scrivere possiamo parlare con degli altri genitori possiamo non so confrontarci tra noi possiamo però l'importante è guardarsi anche dentro e tenere presente che il bambino ha la mente assorbente cioè tutto quello che noi facciamo gli arriva quindi il nostro compito è proprio quello di insegnare a capire che cosa sono le emozioni a identificarle a esprimerle nel modo giusto magari a modularle un po' anche utilizzarle per capire che cosa ci stanno dicendo a spiegare come noi ci sentiamo con degli esempi e soprattutto a tenere presente che l'emozione principale dell'infanzia è e deve sempre essere la gioia quindi cerchiamo di condividere dei momenti felici cerchiamo di ricordare i momenti felici con loro di proprio di costruire delle tradizioni dei rituali delle cose che magari progettare delle cose insieme tenendo presente che loro le ricordano però pensare a questo che deve essere la gioia che domina la loro vita e anche la nostra può essere utile se magari noi ci sentiamo magari in difficoltà perché anche noi abbiamo le nostre cose magari dire sai oggi per esempio oggi ho una giornata so che mi aspetta una giornata al lavoro che sarà un po' lunga un po' difficile no ho molte responsabilità così quindi ho fatto fatica a dormire e allora oggi magari ho un po' di mal di testa oppure non mi va molto da non so perché ho un po' ok adesso forse sì datemi la conferma mi dispiace per questa cosa questo è proprio questione di internet e non so perché di solito funziona bene dicevano appunto cerchiamo di spiegare come ci sentiamo noi fisicamente quindi dire sai sono un po' nervoso per questa cosa e quindi magari ho mal di pancia oppure ho fatto fatica a dormire no magari sono un po' sono un po' nervoso per cui magari mi rendo conto che non lo so la mia voce si è alzata così però è per questo motivo cioè cerchiamo sempre di spiegare e soprattutto se alcuni bambini sono piccoli no che anche a noi succede che quando sentiamo una determinata emozione ci sono determinate reazioni fisiche non so se conoscete questo libretto adesso tolgo mi rendo conto che con il filtro magari è difficile si chiama Emotions and Essential Oils for Kids esiste solo in inglese in questo momento però si può credo utilizzare scusate tolgo il filtro non il filtro ma il background ecco così dovresti riuscire a vedere meglio il mio libro chiudo anche un attimo la condivisione forse lo vedete meglio così e questo è speaker non viene non viene giusto no ok lo lascio di nuovo così è un librettino che è basato sulle miscele dei bambini se le conoscete tutti sono queste dopo adesso ve ne parlo una per una però aiuta proprio i bambini a riflettere su come si sentono si può usare anche con i bambini piccoli gli insegna gli dice no magari adesso impariamo a diventare proprio amici delle emozioni no e quindi ci sono proprio delle faccine adesso non so se riuscite a vederle però gliele potete disegnare tutti usiamo le emozioni quindi tutti sappiamo che cosa vuol dire questa faccina qui vuol dire per esempio che io ho paura no allora se ho paura vuol dire per esempio che posso essere preoccupato per qualcosa che succede magari ho paura di dire la verità per qualche cosa che magari ho fatto che così di cui non vado molto fiero così magari ho paura di qualche cosa per cui mi nascondo no e quindi magari come mi posso sentire fisicamente no anche qui può essere appunto che ho voglia di nascondermi può essere che tremo può essere che non lo so mi sento più piccolo e che cosa posso usare in questo momento ecco che qui ritornano e cioè qui impariamo di nuovo a parlare degli oli ora arriviamo a parlare degli oli e adesso ritorno a condividere lo schermo eccolo qua allora teniamo anche presente ecco scusate ho saltato una slide la riprendo adesso teniamo anche presente che l'ambiente che abbiamo intorno e che creiamo in casa può essere utile per aiutarci a lavorare con le emozioni qui vi ho messo una tenda alcuni ce l'hanno mia sorella per esempio ce l'aveva con nella camera dei bambini quando erano più piccoli ma spesso i bambini a loro piace molto costruire mettere le coperte nascondersi sotto così perché è questo bisogno di intimità e di autonomia è importante come abbiamo detto il contatto con la natura sono molto importanti le tradizioni il ritmo la risposta quando c'è qualcosa che non va molto spesso è nel ritmo quindi avere delle cose che loro si aspettano sapere le routine quello li aiuta a sentirsi sicuri e li aiuta anche ad accogliere quando c'è qualche cosa di nuovo perché è dentro una routine che loro conoscono cerchiamo di non sovrastimolare anche questa è una cosa che spesso invece succede e pensiamo anche che la nostra casa deve essere a misura di bambino se i bambini ci vivono deve essere fatta anche a misura di bambino quindi non avere cose che si rompono che dobbiamo sempre stare lì magari non toccare questo non toccare quello spesso succede quando magari si va a casa di qualcuno che i bambini non li hanno e allora magari dopo loro diventano nervosi si crea quella situazione così quindi loro devono imparare rispettare le cose però è giusto che la casa sia fatta proprio per le loro esigenze per esempio quando adesso io parlo della scuola perché è un ambiente neutro però è importante anche averlo a casa questa cosa se io faccio una supplenza in una seconda per esempio che sono proprio molto piccoli allora loro sono abituati che all'inizio si fa un cerchio e nel cerchio si cantano quelle canzoni e poi si guarda la data di quel giorno si guarda che tempo fa in un ordine molto preciso e quindi magari io delle volte quando mi trovo perché appunto io sono abituata a lavorare con quelli più grandini e mi sono trovata con loro e ho e ho saltato il passaggio che loro dovevano prendere il flauto perché io non avevo il mio flauto e non potevo usare quello di un'altra insegnante e quindi avevo pensato che oggi cantiamo senza flauto invece loro no ma adesso noi dobbiamo prendere il flauto perché è è quello che fa parte della loro routine e quando si va fuori dalla loro routine loro si nervosiscono e allora noi ci nervosiamo quindi stabilire il ritmo e le abitudini e delle tradizioni quando ci si alza al mattino quando si va a dormire la sera prima di mangiare quando si fanno i compiti aiuta tantissimo a rendere tutto molto più semplice perché loro sanno che cosa si aspettano e anche qui ci aiutano tanto gli oli poi quindi il segreto qual è? di inserire gli oli nelle abitudini quotidiane il libro dove posso trovarlo dopo vi metto il link allora quindi diffonderli mattino pomeriggio sera e magari diffondere determinati oli in determinati momenti della giornata per esempio per noi era sempre l'arancio al mattino spesso la menta spesso serenity spesso la lavanda alla sera proprio nel corridoio che c'è qui sopra dove tutte le camere partivano cioè dove si aprono tutte le camere erano sempre quegli oli sia al mattino che alla sera una cosa una cosa che fino a una certetà almeno a casa nostra ha funzionato molto bene era di aiutarle ad andare a dormire la sera ci dovevamo un po' dividere naturalmente però era il momento in cui loro ci raccontavano le cose quindi si può usare prendere per esempio adesso io qui ho la miscela calmer la possiamo anche preparare noi magari diluendo la lavanda o diluendo serenity si può fare un massaggino sotto i piedi sulla schiena loro piaceva tantissimo magari raccontare delle storie così e l'aroma si collega a quel tipo di emozione quindi quando loro sentono quello loro sanno che cosa sta per succedere ci può essere l'olio magico per fare i compiti possiamo prendere gli oli e aiutarli a capire i simboli che sono sulle boccette quindi possiamo poi aiutarli a scegliere e quello aiutarli a scegliere vuol dire esattamente per noi aiutare a capire come ci stiamo sentendo in quel momento quindi ecco come ci aiutano gli oli perché gli oli ne abbiamo parlato ultimamente parlano delle emozioni l'aroma va direttamente al nostro cervello alla parte che riguarda le memorie che riguarda l'apprendimento che riguarda come ci sentiamo come rispondiamo quindi possiamo proprio così costruire no qualche cosa utilizzando gli oli nei diversi momenti e qui trovate proprio le miscere dei bambini con diciamo il perché i simbolini vedete che ci sono quello che anche mia nipote chiamava l'omino un signore diceva lei quindi il corpo il cuore quindi le emozioni e il cervello però vedremo che li possiamo usare tutti per tutto questi sono un po' gli usi per cui questi oli sono stati creati però sappiamo benissimo quegli oli essenziali tutti hanno un uso sulle emozioni un effetto sulle emozioni e quindi adesso vedremo qual è allora abbiamo Steady e Brave i nomi sono in inglese io non li posso cambiare però Steady è un po' per chi conosce gli oli degli adulti il Balance ed è questo verde e poi abbiamo il Brave che è arancione che è un po' Motivate il nostro Motivate sentite che gli aromi sono diversi però le funzioni sono queste quindi quando li possiamo utilizzare li possiamo usare per tutte le volte in cui c'è bisogno di chiarezza per esempio nel caso di Steady nel caso in cui c'è un po' di paura nel caso in cui c'è un po' di tristezza quando c'è un po' di cattivo umore quando abbiamo bisogno di ritrovare l'equilibrio io ci sento tantissimo la Magnolia e la Magnolia è un olio molto materno quindi che gli dà quella sicurezza quella base proprio di accoglienza proprio la base sicura da cui loro possono partire e quindi possono avere meno paura perché se noi facciamo vedere un po' come ti senti e vediamo qui la paura per esempio possiamo poi sottofargli provare Steady però va bene per esempio va benissimo anche Brave perché Brave è la miscela del coraggio quindi è anche la miscela che gli dà fiducia che gli dà anche buon umore perché qui vedete che c'è l'arancio dentro c'è lo smanto c'è la cannella che dà molta forza in se stessi gli aromi di questi oli sono meravigliosi sembrano caramelle sono proprio si vede che sono stati proprio pensati per i bambini sono diluiti in modo che anche i bambini più piccoli li possano utilizzare però i bambini più grandi possono capire se guardando ancora le faccine c'è quella faccina un po' triste e magari no sono un po' triste perché dovevo andare a trovare i miei amici e non ci sono potuto andare per esempio o perché non lo so non mi hanno fatto giocare insieme l'altro giorno a scuola mi sono trovata che c'era questo bimbo e lui era stato escluso durante la ricreazione in un gioco e non abbiamo potuto iniziare a fare niente fino a che abbiamo chiarito questa cosa perché per lui era talmente forte ma aveva voglia proprio solo di piangere in quel momento e quindi ne abbiamo parlato prima di iniziare a fare qualunque altra cosa e io non è che posso proprio usare gli oli a scuola con loro però in quel momento lui avrebbe avuto bisogno proprio di qualche cosa che fosse un po' come un abbraccio poi lui si può abbracciare tranquillamente a scuola però ecco se fossi stata a casa avrei usato con loro quello avrei aiutato a capire allora va bene che ti senti così adesso ne parliamo e magari possiamo usare qualche cosa che ti aiuta in questo momento e quindi se siamo tristi possiamo usare magari per esempio Rescure Stronger che sono in realtà due oli se guardate quello che c'è sul tappo qui c'è disegnato un corpo e quindi principalmente vengono fuori per le difese immunitarie e il dolore diciamo però ci aiuta tantissimo ad essere no ad essere più forte per le cose che possono succedere no e quindi ecco magari ci allevano anche ci aiutano ad alleviare la tensione nel caso di Rescure e quindi ci possono assolutamente aiutare anche nel momento in cui mi sento triste che ho bisogno proprio di forza di qualcuno che mi aiuti ad andare avanti e allora possiamo aiutarla ad usare Stronger cosa c'è dentro Stronger guardate qua Siderwood che è l'olio della comunità L'Izea che è l'olio anche delle possibilità Frankincense che è l'olio della verità quindi io l'ho vissuto così in questo momento e va bene e la rosa la rosa che è l'olio che alza le vibrazioni la tristezza ha vibrazioni basse quindi perché ci aiuta la rosa perché ci aiuta ad alzarle e quindi poi siamo meglio niente è un caso e la lavanda ci aiuta a comunicare anche la speriment quindi no ci aiutano a esprimere la tristezza che stiamo provando in quel momento ecco perché possono andare bene un'altra emozione che assolutamente può capitare capita molto spesso con i bambini e la rabbia allora che cosa usiamo con la rabbia quando siamo arrabbiati no cosa vuol dire se per la tristezza magari no abbiamo voglia di piangere vorremmo che le cose fossero diverse con la rabbia magari possiamo sentire che non riusciamo a controllarci vogliamo urlare vogliamo magari siamo un po' impazienti così ecco allora dobbiamo anche aiutarli a capire che ok va bene che sei arrabbiato però non è che posso andare a menare la gente no perché siamo arrabbiati non possiamo spaccare tutto allora anche qui la lavanda ci aiuta a comunicare e a far venire fuori le cose nel modo giusto la camomilla anche ci aiuta a ritrovare un po' di equilibrio di sicurezza e quindi possiamo provare a usare calmer per vedere se ci aiuta no in quel momento a provare meno rabbia anche se poi dobbiamo capire cos'è che ci ha fatto arrabbiare no però riusciamo a parlarne qual è la prima cosa che noi diciamo allora perché siete così arrabbiati perché avete litigato adesso ci mettiamo seduti e me lo dite perché lui ha fatto così perché quell'altro mi ha preso il gioco e lo dicono urlando e non si arriva da nessuna parte quindi dobbiamo riuscire a trovare il modo di dirlo con calma ecco perché c'è calmer lo possiamo diffondere possiamo no però possiamo magari anche aiutarli a dire allora fa benissimo adesso mi raccontate che cosa è successo troviamo una soluzione facciamo la pace facciamo questa cosa prima mettiamoci una goccina di olio sulle mani facciamo un respiro e poi dopo mi raccontate e già così no respirando proviamo a calmare un po' le cose sferment è dentro tamer che in realtà è la miscela che aiuta per la pancia la digestione eccetera però ci aiuta anche proprio a esprimere e a calmare un po' il disagio ad assimilare quello che è successo e quindi nel momento in cui siamo particolarmente arrabbiati potrebbe darsi che l'olio di cui abbiamo bisogno magari sia temer potete farglieli scegliere assolutamente può essere che si perde il controllo può essere che magari ci si sente ferite può essere che ci si senta non abbastanza purtroppo anche i bambini hanno questa cosa e quindi anche lì è molto importante lavorarci io decisamente userei brave in quel caso forse anche steady potrebbe andare bene anche il temer perché magari appunto aiuta a parlare ma soprattutto anche perché sto pensando allo zenzero che dà un po' di forza lo zenzero il pepe nero quindi ecco aiutiamoli a conoscere gli oli quindi possiamo in un momento di totale tranquillità presentargli gli oli e dire ok no guarda questo qui è un olio che puoi usare in questo caso per esempio in modo che quando c'è bisogno poi loro li vadano a cercare perché così non è una cosa nuova per loro e non lo collegano al momento di difficoltà lo collegano a un momento piacevole ok l'ultimo è questo qui è il tinkel in realtà questo è un olio appunto che serve soprattutto per la concentrazione per i momenti magari di studio eccetera e quindi può essere il famoso olio magico che però è anche un olio che ci può aiutare a ragionare magari quando c'è qualcosa che è successo eccetera ad essere un pochettino più razionale se può essere il caso perché comunque è un olio che ha dentro la menta che è un olio molto positivo ha il vetiver che è molto aiuta molto a così a bilanciare alla clementina quindi un mandarino che dà positività quindi così può essere indicato anche nei momenti in cui c'è bisogno un attimo di ragionare sulle cose ecco l'importante è insegnare ai bambini che le emozioni sono tutte giuste che sono delle amiche per noi che abbiamo diritto di sentirci così che non ci sono delle emozioni negative che però è bene parlarne ed è bene imparare a gestirle in modo da non rendere le cose peggiori e ricordiamoci che appunto dobbiamo cercare di aiutarli sempre a tornare alla gioia non so se spero che vi sia stato utile spero che non sia una cosa che vi ha confuso non lo so ditemi pure se c'è qualche cosa da chiarire qui c'è due miscele per le mamme o per genitori o per nonni o zii o insegnanti o chiunque a qualunque titolo abbiate a che fare con i bambini calm and cool mamma babies and mama e questo lo potete fare proprio per così davvero per voi per tutti quei momenti in cui c'è bisogno di saggezza ecco il motivo per cui c'è la salvia dentro il paciuli è l'olio della presenza e black spruce è l'olio della prospettiva e sono tre cose importanti da avere frankincense è l'olio della verità il bergamotto è l'olio anche della fiducia in se stessi il pompelmo è l'olio dell'autostima e l'arancio è l'olio dell'abbondanza ecco perché sono in queste miscele potete scegliere quella che vi piace di più e e tenerla per voi quando vedete che l'atmosfera si scalda o anche semplicemente come abitudine potete provare o queste o potete anche cercarne un'altra io per esempio non amo particolarmente il paciuli quindi lo sostituisco con un franghezenza molto volentieri però no ecco potete così avere anche la vostra valvola di sfogo e il vostro olio magico spero che ci siano stati dei buoni suggerimenti ecco il modo in cui usare gli oli nel caso delle miscele dei bambini è proprio semplicissimo perché appunto sono per l'uso topico che naturalmente è automaticamente anche aromatico per cui potete metterlo sulle mani potete massaggiarlo anche sulla nuca potete massaggiarlo sotto i piedi potete massaggiarlo sulla spina dorsale usatelo molto per questa cosa nel caso del tamer per esempio potete assolutamente se ci sono problemi di pancia che molto spesso sono in realtà problemi di un po' di nervosismo così assolutamente massaggiarlo sulla pancia ecco ci sono le indicazioni su ogni olio qui in questo per ogni olio e ogni motivazione e ogni tipo di emozione ci sono anche proprio le indicazioni su come usarli per cui per esempio se io devo essere concentrato avere la mente chiara così posso prendere il thinker e lo posso mettere sulla nuca e sui polsi ad esempio poi magari se invece voglio sentirmi sicuro voglio usare il tamer appunto come dicevo lo posso mettere proprio sulla pancia e anche questo sulla nuca se usiamo strong appunto per sentire che possiamo ce la possiamo fare chiudo un attimo no è inutile che chiuda la condivisione perché venite fuori tutte allora che cosa possiamo fare con questo lo possiamo magari mettere no tipo anche sulle braccia mio nipote lo metteva molto sulle braccia perché gli dà l'idea di fare crescere i muscoli e magari anche sul sul torace sul cuore perché è quello che ci aiuta a così ad andare avanti ad essere protetti in qualche modo che poi è la funzione di di questa miscela che si chiama strong se vogliamo usare steady che è un po' appunto dicevamo il nostro balance lo possiamo usare steady quindi stabile no in equilibrio allora lo possiamo usare davvero sotto i piedi e sulle gambe anche se io un po' sulle mani lo metterei sempre e lo annuserei sempre perché è è buonissimo ed è proprio così appunto il modo migliore per farlo entrare in circolo però no metterlo sui piedi e sulle gambe ci aiuto proprio così simbolicamente a dire ok sono stabile e sono sicuro adesso se usiamo rescue lo possiamo usare se c'è una parte del corpo che magari fa male eccetera però anche questo io lo metterei anche sempre magari sul cuore e così via calmer io lo metterei proprio invece sui polsi perché si sente bene quando si va a riposare sulla schiena e sicuramente anche sotto i piedi perché ci aiuta un po' appunto a rilassarci a capire che in quel momento quello è quello che dobbiamo fare e quindi ecco questo è un po' il modo in cui li userei e in cui possiamo usarli per le emozioni non a caso ma sempre collegati anche a bisogno un momento per carità però collegandoli nella routine quotidiana ai momenti così che sono importanti se dovesse essere che ci sono dei bambini che magari non vogliono stare a scuola che sentono la mancanza di casa così anche in quel caso potete usare gli oli magari dire guarda ti metto brave nello zaino se ti senti che hai un pochettino paura puoi magari no annosarlo e sentire che è come in questo momento quando magari ti sto abbracciando ci sono anche delle cose carine ora è un distributore in Australia però ho visto per esempio una cosa che mi è piaciuta moltissimo un'azienda che fa cose di legno e loro hanno un cuore tipo un lucchetto a forma di cuore e una chiave che si mette che si toglie quando il bambino è a casa mette la chiave nel lucchetto perché lì si carica no quando va via prende questa chiave la toglie quindi dal cuore che è tutta carica di tutto l'amore no di tutto il calore della casa così però la porta con sé e e e lì dura per tutto il giorno e poi quando arriva a casa la ricarica e quindi anche lui no o lei si si ricarica quindi ecco possiamo anche cercare proprio degli strumenti dei simboli un po' per queste cose adesso in una serata non c'è tempo ovviamente di parlare di tutto questo però un po' alla volta se volete adesso non so come però mi piacerebbe anche ditemi se può essere anche una cosa interessante per voi pensare anche tutti questi strumenti ecco queste miscele dei bambini sono un kit di iscrizione se qualcuno di voi non ha un account con Duterra altrimenti li trovate se avete un account tranquillamente da soli o separati cioè da soli o insieme nella nella bustina e appunto se non avete un account potete rivolgervi a me o a chi credete e comprare e iniziare sia con la la le miscele dei bambini ma anche invece con un kit come questo che ha il diffusore con degli oli che si possono tranquillamente usare anche con i bambini non tutti quelli lì però e appunto le miscele dei bambini sono corrispondono a quelle degli adulti per cui uno può anche fare questa scelta non c'è il diffusore però si possono essere usati da tutti in casa io le uso tranquillamente le miscele dei bambini sono miscele di oli alla fine oppure potete anche prendere quello che vi manca se avete bisogno di qualcosa io sono qui adesso chiudo la condivisione guardo qua se c'è qualche cosa se ci sono delle domande sono qui allora non ho bergamotto e pompello mannaggia non ti vorrei occupare lo prenderai sono tra l'altro due oli abbastanza economici allora per te che torni indietro ecco il libro allora questo libro qui io l'ho preso da foroils adesso vi cerco il link è una ditta un olandese allora foroils eccolo qua adesso io vi do il link e poi dopo vi guardate nelle lingue che preferite si apre si apre adesso in tedesco ma io non lo voglio in tedesco poi arriva fuori anche inglese olandese così lo potete mettere in inglese allora copia ve lo metto qui nella chat ok il libro si chiama così emotions and essential oils c'è anche un sito che si chiama kids emotions punto com ecco la persona che ha scritto questo libro è Amanda Porter che è quella che ha scritto anche il libro sulle emozioni sugli oli e le emozioni quell'altro insomma che siamo abituati ad utilizzare questo è l'ultimo che ha che ha scritto ed è proprio per così per l'uso di queste miscele dei bambini che pure ci sono nell'altro per cui sono un po' di suggerimenti pratici diciamo allora Stronger mi piace un sacco anche a me insieme a Vettiver mi ha aiutato molto ce l'ho sempre in borsa esatto perché questi appunto vanno benissimo anche per noi non è che sono solamente per i bambini con mia figlia allora 13 anni e 3 mesi posso utilizzare gli oli dei grandi in tune e Motivate sono troppo forti per lei allora no non sono troppo forti però può darsi che preferisca gli aromi degli oli per i bambini ad esempio in tune che a me piace molto però è molto intenso e allora può darsi che thinker sia così che le possa piacere di più però a livello di adesso non so a 13 anni possono essere grandi o possono essere ancora anche piccolini dipende un po' davvero dalla costituzione però teoricamente sono due miscele sono già diluite quindi direi che non c'è problema allora ok meritiamo essendo la prima volta che partecipo ho una domanda le slide allora le slide di solito non non le do le pubblico sulla sul gruppo del team però la registrazione invece ce l'avete ve la mando la registrazione quindi poi magari semplicemente potete fermarle steady e balance non aveva le crisi di pianto eh già perché si le aiutano tantissimo mi sembra un'ottima scelta e tante coccole ok meet everyone ok le domande che ci erano lì ho risposto però ditemi se c'è qualcos'altro so che sono andata fuori tempo massimo anche questa sera vi chiedo scusa ma ok ok se non c'è altro vi ringrazio vi saluto e ci vediamo la prossima volta